e per ultima storia di quel box che vi parla su FIFA 17 con il squad builder straordinario della serie A cominciamo il portiere intanto è Gianluigi Donnarumma ottimo nell'uno contro uno, ottimo tuffo il riflesso 89 per quello è bravo nel uno contro uno il piazzamento anche quello non è buonissimo che vuole stare fuori dai pali ma la presa blocca quasi di tutto il difensore centrale abbiamo Manolas e a fianco abbiamo Benatia Benatia forte come difensore, ottima difesa, ottimo fisico Manolas costa un po' di più ottimissima velocità, ottima difesa, ottimo fisico pure lui il tiro lasciamo stare quello non c'entra niente abbiamo poi Ignazio Abate bagate come tutti gli altri FIFA che c'era 88 di velocità 76 di dribbling, 73 difesa e 77 fisico abbiamo Mario Rui lui fortissimo come difensore mi ha fatto anche un gol 40 metri di tira siamo un po' un minimo di più dai abbiamo Renanes che non mi è piaciuto molto però mi è piaciuto il suo passaggio alla fine perché lo so usare bene riuscire di sicuro a fare meglio di quello che ho fatto io qua mettiamo qua mettiamo tutto il campista allora abbiamo un gol Cavalero ma diciamolo qua adesso 85 di passaggio è quello che è piaciuto di più e anche i dribbling e anche il tiro dai anche se non mi ha segnato però è forte poi invece abbiamo poi invece abbiamo come C.O.C. Totti andate che lo scelgo da qua abbiamo spunto a volte abbiamo Francesco Totti che si fosse a situare con Banega però che non mi è piaciuto molto per il passaggio C.O.C. Totti invece ho 87 di passaggio 84 di tiro è molto buono come a D. Berardi lui è ottimissimo in tutte dai ottima velocità ottimo dribbling e ottimissimo tiro e poi qua abbiamo abbiamo C.I.R.O. Immobile nella soluzione 83 io non avevo i trade se non lo prendevo 85 anzi l'uomo non lo volevo disputarli allora 82 di velocità che è buono e il tiro alla fine è buono dare finalizzazione un po' non è un'87 un'84 ma è buono dai e poi abbiamo come ultimo giocatore Felipe Anderson lui mi ha fatto un gol strepitoso all'incrocio dei pali nella prima partita già il fisico non è buono ma la velocità quella alla fine è buonissima vi faccio vedere i prezzi qua sto facendo eccoli qua allora ultimo lui ma qua i gabbiatini vabbè potete mettere anche lui qua la mia seconda squadra se volete vedere l'ecuba nera mi sono fatto questa qua come seconda squadra è un iguida alla fine vabbè il video può il video può finire qua se questo video vi mette mi piace commentate i suoi canali se ancora non siete iscritti per non perdere altri squadri builder e altro e noi ci vediamo al prossimo video Bella ciao ciao